Ciao a tutti! Oggi prepareremo i biscotti alle mandorle. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono mandorle pelate, farine di tipo 00, burro morbido, vanillina, zucchero semolato e tuorli d'uovo. Diamo il via la ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale le mandorle e le facciamo tritare per 30 secondi da velocità 6 a velocità 10. Le mandorle sono perfettamente tritate, mettiamole da parte. Mettiamo nel boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Riumiamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo la farina di mandorle, la farina di tipo 00 ed azioniamo il bimbi per 10 secondi a velocità 10. Aggiungiamo il burro, i tuorli e la vanillina. Ed azioniamo il bimbi per 50 secondi a velocità 5. L'impasto è pronto, trasformiamo un panetto, trasferiamolo nella pellicola trasparente e riponiamolo in frigo per almeno un'ora. Trascorso il tempo abbiamo ripreso l'impasto dal frigo, adesso formeremo i nostri biscotti. Prendiamo un pezzetto di impasto, lavoriamolo un po' nelle mani. Formiamo un bastoncino. Lo andremo a ripiegare dando la forma U e lo andremo a posizionare su una teglia rivestita con carta da forno. Continuiamo così per tutto il resto dell'impasto. Una volta formati tutti i biscotti, li andremo a cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 12-15 minuti circa. I biscotti sono cotti, lasciamoli intiepidire prima di rimuoverli dalla teglia. Biscotti alle mandorle. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti! Grazie a tutti.